Bene ragazzi, credo che l'abbiamo seminato Già è vero, per poco non ci uccideva È vero Per poco non ci uccide... per poco non morivamo Cioè, stavamo proprio rischiando di morire Già, stavano per morire sia Marco che Fiona Eh già Eh già Beh, l'importante è che adesso siamo al sicuro Eh ma ragazzi? Oh mio zio, e adesso che cosa c'è ancora? Un altro predatore? No Guardate la zoo Oh mio zio, ma quindi questa è... è la valle È la valle ragazzi, siamo nella valle Oh mio zio, è fantastica Già, è vero Eh? Elisa, fermati, dove stai andando? Voglio vedere uno di questi dinosauri da vicino Ehi, ciao bello Fatti accarizzare Ehi, ciao bello Non credevo che i parasauri piacessero le carezze Cavoli, è veramente molto carino Dai ragazzi, venite qui Questi dinosauri erbivori sono innocui Non vi fanno niente Oh, ok allora Oh, ehi, ciao maschione Wow, certo che a questo triceratobo piacciono davvero le coccole Eh già, è vero Questo stegosauro mi sta molto simpatico Ehi, ragazzi, guardate La zoo c'è un apterodattilo Cavoli, che bello Cavoli, allora ne è valsa la pena di tutte queste brutte esperienze E già, è vero Ragazzi, sapreste dirmi da dove proviene questo rumore di passi giganti? Oh, oh ragazzi, ho un brutto presentimento Credo che si sta avvicinando un predatore molto grande E chi potrebbe essere questo predatore, scusa? Ragazzi, sapreste dirmi che cos'era quel rumore? Ragazzi, sapreste dirmi che cos'era quel rumore? Ragazzi, sapreste dirmi che cos'era quel rumore? Come si è vero? Ragazzi, sapreste dirmi che cos'era quel rumore? Oh mio zio, ma quello è... 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 un tirannosauro! Oh mio zio, se ci fosse qui mio fratello si potrebbe a ricreare. Peppo? Peppo? Scusa, perché gli hai dato un nome? No, perché lui è il mio miglior amico e... e quindi... Comunque Peppo, cosa vuoi fare? Oh mio zio Peppo, no! No! Peppo, no! oh mio zio peppo no ragazzi spiegatevi forza dobbiamo scappare ragazzi fuggite bene sono scappati nell'erba tu adesso vieni con me forza dai matteo sbrigati si ragazzi arrivo oh 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 no Grazie.